Evento di chiusura del progetto Navigando a Prodiamo nel Golfo di Gela, la scoperta del nostro territorio, al comprensivo Giovanni Verga, rivolto agli alunni delle classi quarta e quinta e della scuola primaria. Il progetto si inserisce fra le attività curriculari programmate nell'ambito del POF e che hanno trovato il necessario sostegno economico nel finanziamento regionale di cui la scuola ha beneficiato. Legati per crescere, sono stati realizzati diversi laboratori, tra cui Ceramiche d'Arte e Viviamo la Città, da protagonisti. Attraverso la storia e l'arconto di miti e leggende, visite guidate al museo e ai siti di interesse storico, archeologico e ambientale, gli alunni sono stati condotti in un viaggio che ha risvegliato in loro l'amore per Gela e che li ha portati a conoscere le radici delle usanze e delle tradizioni locali. I laboratori sono stati tutti ben sviluppati e portati a termine, partendo dal laboratorio della conoscenza e quindi proprio della conoscenza diretta, della visita ai siti peculiari e importanti della nostra città, per la conoscenza e la valorizzazione degli stessi, rispetto ai quali poi abbiamo proceduto con un lavoro di cucitura e quindi di rappresentazione dello stesso territorio. Attraverso la creazione di un nuovo laboratorio di ceramica nel plesso di Via Caviaga e così attraverso un laboratorio di drammatizzazione, realizzato appunto delle classi quarte e quinte laddove le quarte hanno più valorizzato e approfondito i temi che riguardano il folklore e la tradizione e le quinte invece i temi che riguardano l'ambiente di oggi e quindi l'inquinamento o piuttosto che lo sviluppo economico del nostro territorio. Il tutto ben inserito anche in un'altra cornice che era quella del fare notizia o meglio della trasparenza, quindi rispetto al tema della legalità che è il filo conduttore del progetto. In occasione della giornata di chiusura è stata presentata la stampa del giornale d'Istituto Legati per Crescere, strumento di narrazione e testimonianza di tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari sviluppate durante l'anno scolastico sui temi della legalità, della conoscenza e della valorizzazione del territorio, sui valori di un'educazione improntata alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente, ispirata ai valori dell'intercultura, della solidarietà e dell'accoglienza.